Da un rapporto pubblicato dall'osservatorio congiunto facile.it mutui.it e relativo al primo semestre del 2018 è emerso che sono aumentate le domande di mutuo in Sicilia, ma anche il valore degli importi richiesti, mentre 8 su 10 scelgono il tasso fisso. Così pure cresce la percentuale di giovani under 35 che richiedono un finanziamento. Sembra essersi sbloccato dunque il settore dei mutui nell'isola. Secondo lo studio il valore medio richiesto è di 111.165 euro in aumento del 2,4% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. A livello provinciale a Messina e Catania i valori più cospicui rispettivamente 122.883 euro e poco più di 121.000 euro, quelli più bassi si registrano invece ad Enna, Raguse e Grigento. Di poco sotto la media regionale Palermo con 116.000 euro e Catania con poco più di 108.000. A importi più alti corrisponde anche una maggiore durata del piano di finanziamento, dilazionato per più mesi, da una media di 20 anni e 3 mesi si è passate a 21 anni e 5 mesi. In crescita anche il rapporto tra il valore dell'immobile da acquistare e quello del mutuo richiesto. Nel corso dei 12 mesi il valore, chiamato lo anjuvalio, è salito di quasi 5 punti percentuali, passando dal 6,2% del primo semestre 2017 al 68 registrato nello stesso periodo del 2018. In molti optano per il tasso fisso, una media alta di 8 su 10. Secondo il rapporto dell'osservatorio, nel corso degli ultimi 12 mesi la percentuale di richiedenti siciliani che ha presentato domanda per un mutuo il tasso fisso è cresciuta di quasi 7 punti percentuali, passando dal 73% del primo semestre 2017 al 79,9% del primo semestre 2018. Ma il dato che più salta all'occhio è il ritorno dei giovani tra gli aspiranti mutuatari. In Sicilia, gli under 35 che hanno presentato domanda di prestito sono stati il 30,3% del totale, in crescita di oltre 3 punti rispetto all'appena 27,2% del primo semestre 2017. In calo di conseguenza, l'età media di chi ha presentato domanda, scesa da 42 anni a 8 mesi a 41 anni e 11 mesi.